Venditalia 2022 continua, ci troviamo nello spazio Confida e abbiamo incontrato Manuel Amorini, il responsabile della divisione professionale vending per l'Italia. Manuel, benvenuto. Benvenuto, benvenuti a voi, grazie Fabio di avermi chiamato. Siamo presenti anche noi, protagonisti, insieme a tutti i protagonisti del vending. E allora, diciamo innanzitutto che Cameo ha una dozzina di prodotti nella linea professional di altissimo valore, ma anche e soprattutto di quelli che girano molto, li chiamiamo gli altoconsumanti in gergo. Sì, è vero, Cameo sinonimo di qualità, Cameo marchio italianissimo, ben conosciuto. Da oggi ci presentiamo direttamente sul mercato, sul canale del vending, con una divisione commerciale snella, flessibile, pronta con le risposte giuste a un mercato che è veramente in cambiamento. Delle soluzioni on the go, da passeggio, comode e sfiziose per uno spezza fame in qualsiasi momento della giornata. Diciamo anche perché tu sei qui, cioè qual è il motivo per cui anche tu hai partecipato a questo enorme incontro del popolo del vending che non si teneva ormai da quattro anni. Sì, come dicevo prima, non potevamo mancare, vogliamo essere protagonisti insieme ai protagonisti, noi come chiaramente produttori, ma soprattutto come partner per tutti i distributori e tutti gli attori di questo canale. Qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui si può scrivere per chi desidera avere maggiori informazioni sui prodotti Cameo e chissà, magari aprire con voi una relazione di tipo commerciale, che sia semplicemente di acquisto prodotto, quindi parliamo di gestori e o magari di collaborazione, parliamo dunque di distributori. Sì, abbiamo il nostro sito internet per cui www.cameo.it, abbiamo chiaramente anche la divisione professional, per cui un sito istituzionale professional, ovvero www.cameo-professional.it e beh Fabio, io spero che dopo questa bellissima intervista possano cominciare a chiamarmi, a chiamarci direttamente. In ogni caso l'indirizzo mail istituzionale è cameo-cameo.it Grazie Manuel, noi amici a questo punto prendiamo finalmente una pausa con uno dei prodotti Cameo che provvidenzialmente sono nella sua borsa. Ora, grazie Manuel. Grazie, grazie a te Fabio, grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.